VIA! VIA! Molto piacere, Principe Guido al suo servizio, Principessa. Buongiorno, Principessa. Buongiorno, Principessa! Ciao, cavallo! Achtung, cavallo ebreo. Cominceranno pure con te. Dai, che vi possono fare a me, zio? Oh, partiamo proprio in orario spaccato, eh? Oh, fermi! E vai! Difuta! Josue, vieni, veloce come razzo! Vieni, vieni! Buongiorno, Principessa! Dove lo trovate uno più bello di me? Vieni! Vieni! Grazie per la visione!